come dice mio fratello noi avevamo il re e mica il papa ma soprattutto avevamo la ricchezza e il giorno devastato ci sono i surfa di tutto fanno alla fine peggio la nostra io sono di tuffo e sono traentesa pura io non ho spazzato del genere nata cresciuta e pasciuta a trento mia nonna è della cappella tuffo io conosco tiziana vando ok conosco il cognome no io devo essere sincera conosco poche persone non ho fatto altro della vita che ho girato però conosco perfettamente il cognome cucciarone quello che fa il legno che ci aveva il negozio al centro mamma è padre di Giro mia nonna è Fusco è Conte più trentesi così sono è tra gente sotto la cappella seguiti c'è l'altro per il mio amore che cosa che faccio è un dato è un'altra cosa che faccio Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.